Grande Fraterno 2019, ieri c'è stata questa finale, il 10 giugno 2019 e a vincere vi ricordo che è stata di nuovo la bellissima e bravissima Martina Nasoni. In questo video di oggi andiamo a vedere le posizioni, quali sono state, andando a descrivere i posti relativi con i nominativi ovviamente. Ripeto, al primo posto Martina Nasoni, medaglia d'oro. Al secondo posto Enrico Contarini, quindi medaglia di argento. Al terzo posto, quindi medaglia di bronzo, Gianmarco Onestini. Lillio Gennaro invece va a vedere sfumare il suo sogno di vincere ad un passo dalla finale che ovviamente non può che essere dimenticata dai più, perché comunque questa è una finale piacevole. da essere apprezzata dalla maggior parte delle persone. Ripeto quindi nuovamente, prima Martina Nasoni, secondo Enrico Contarini, terzo Gianmarco Onestini. Medaglia d'oro, di argento e di bronzo. Grazie a voi, un caro salutone. Questo è il terzo video che realizzo a proposito del Grande Fraterno 2019. Al prossimo video del narratore italiano.